Anticipazione amici 22 del 10 gennaio 2023, un eliminato e un clamoroso rientro. La Celentano assegna un compito di latino a Mattia e a Eleonora. Tommy eliminato. Ospite debbi. Maddalena, Wax, Ndigi ricevono gravissimi provvedimenti disciplinari e Tommy perde. Il fatto grave è successo la notte di Capodanno e la produzione ne è venuta a conoscenza solo il 6 gennaio. Valeria si scontra contro Cricca che rientra nel programma. Rita ritorna in studio per ricevere una borsa di studio a New York. Tommy eliminato da Rudy. Anche Samu affronta la sfida e vince. Anche Samu affronta la sfida e vince.